Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecne Dire Monitor Italia di oggi venerdì 13 settembre 2024. Il borsino dei leader. Percentuale di valutazioni positive su ciascun leader con voti da 6 a 10. Giorgia Meloni scende dello 0,1 al 42,9. Tajani al 36,6 scende dello 0,1. Schlein al 31 scende dello 0,2. Giuseppe Conte al 29,6 scende dello 0,2. Matteo Salvini al 26% scende dello 0,1. Emma Bonino al 20,8 scende dello 0,2. Carlo Calenda al 20,3 cresce dello 0,1. Angelo Bonelli al 16,4 cresce dello 0,1. Nicola Fratoianni al 16,2 cresce dello 0,1. Chiude la classifica Matteo Renzi con il 14,6%. Questa la differenza rispetto alla settimana precedente. Arrivederci a tutti e grazie.